Giappace alla batteria! Stinga il basso, dai vabbè! Allora, geriatric rock blues band perché l'età escluso il batterista l'ho presuppone perché siamo qui a suonare? Io sono qui perché qui abita la coniglietta più bella del mondo si chiama Ginny la verità è che lui è il papà dell'amorosa del gestore ed è partito dalla piazza in ginocchio ha fatto la salita e ha detto fateci suonare perché questo è il nostro saggio di fine anno sfogliamo per tutto l'inverno e facciamo il saggio di fine anno come le ballerine, è uguale classic rock e classic blues, l'età è questa e la musica sarà questa l'applauso, l'urlo della folla grazie a tutti 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 Grazie a tutti